Ciao a tutti, vediamo un esperimento che ti garantisce di far innamorare chi vuoi. Questo esperimento è stato elaborato dall'Università di Toronto dal professor Arthur Aaron e consiste in due fasi. Nella prima fase c'è la somministrazione di un test e nella seconda fase c'è un'interazione tra le due persone di quattro minuti. Allora, come funziona questo esperimento? Intanto devi trovare una persona disponibile a fare l'esperimento con te. Facendo l'esperimento assieme vi innamorerete reciprocamente. Quindi devi scegliere la persona giusta. Allora, l'esperimento è molto semplice. Devi somministrare, cioè dovete, ognuno si autosomministra un test fatto da 36 domande e poi vi dirò quali sono. E la persona deve semplicemente rispondere alle domande. Ognuno dei due vi mettete, vi sedete lì per conto vostro e rispondete alle domande. Finito il test, dovete guardarvi negli occhi per quattro minuti. Mettete un orologio con un cronometro, vi guardate negli occhi senza parlare per quattro minuti. Al termine dei quattro minuti sarete reciprocamente innamorati. Quindi potrete coronare la vostra storia d'amore. Questo esperimento pare che abbia dato dei risultati positivi su diverse persone che si sono sottoposte. Per cui io adesso ve lo dico, ve lo leggo, perché sono 36 domande. Non so, prendete nota così poi, diciamo, comunque se poi lo cercate su internet lo trovate. Insomma, così potete somministrarlo alle persone che volete. Comunque, allora, la prima domanda è Chi vorresti avere come ospite a cena se potessi scegliere tra tutte le persone al mondo? Due. Ti piacerebbe essere famoso? Per cosa? Tre. Ti capita mai di provare quello che devi dire prima di fare una telefonata? Perché? Quattro. Com'è un giorno perfetto, secondo te? Cinque. Qual è l'ultima volta che hai cantato tra te e te e davanti a qualcun altro? Sei. Se tu avessi la possibilità di vivere fino a 90 anni mantenendo la mente o il corpo di un trentenne per gli ultimi 60 anni della tua vita, quale scegliresti tra i due? Sette. Hai un presentimento segreto sul modo in cui morirai? Otto. Elenca tre cose che tu e il tuo partner sembra abbiate in comune. Nove. Per quali cose della tua vita ti senti più fortunato, fortunata, grato, grato. Dieci. Se potessi cambiare qualcosa del modo in cui sei stato cresciuto, quale sarebbe? Undici. Prenditi quattro minuti e racconta la storia della tua vita il più possibile in dettaglio. Dodici. Se potessi svegliarti domani avendo acquisito una qualità o un'abilità, quale sarebbe? Tredici. Se potessi vedere in una sfera di cristallo la verità su te stesso, la tua vita, il futuro o qualsiasi altra cosa, cosa vorresti sapere? Quattordici. C'è qualcosa che sogni di fare da tanto tempo? Perché non l'hai fatto? Quindici. Qual è il riguardo più importante che hai raggiunto nella tua vita o il tuo più grande risultato? Sedici. Quali sono le cose che per te contano di più in un rapporto di amicizia? Diciasette. Qual è il tuo ricordo più caro? Diciotto. Qual è il tuo ricordo peggiore? Diciannove. Se tu sapessi che entro un anno morirai improvvisamente, cambieresti qualcosa del modo in cui stai vivendo? Perché? Venti. Che cosa significa l'amicizia per te? Ventuno. Che ruolo hanno nella vita, l'amore e l'affetto? Ventidue. Elencate alternandovi cinque caratteristiche positive dell'altro. Ventitré. Hai un rapporto stretto con la tua famiglia? Pensi che la tua infanzia sia stata più felice della media? Ventiquattro. Che rapporto hai con tua madre? Venticinque. Ognuno dica tre frasi con il noi. Per esempio, siamo entrambi in questa stanza e ci sentiamo. Ventisei. Completa la frase. Vorrei avere qualcuno con cui poter condividere? Puntini puntini. Ventisette. Spiega al tuo partner le cose di te che sarebbe importante che sapesse se diventaste molto amici. Ventotto. Di al tuo partner che cosa ti piace di lui-lei. Sii molto onesto-onesta. E di anche cose che in genere non diresti a una persona che hai appena conosciuto. Ventinove. Racconta un episodio imbarazzante della tua vita. Trenta. Qual è stata l'ultima volta che hai pianto di fronte a un'altra persona? E da solo o da sola? Trentuno. Di al tuo partner qualcosa che già ti piace di lui-lei. Trentadue. Qual è, se esiste, l'argomento su cui non si può scherzare per te? Trentatré. Se stasera morissi senza poter più comunicare con nessuno, qual è la cosa che rimpiangeresti di non aver detto a qualcuno? Perché non gliel'hai ancora detta? Trentquattro. La tua casa prende fuoco con dentro tutto quello che possiedi. Dopo aver salvato le persone che amano e gli animali, hai il tempo per fare un'ultima cosa dentro e portare via un solo oggetto. Quale sarebbe? Perché? Qual è il membro della tua famiglia? Trentacinque. Qual è il membro della tua famiglia la cui morte ti colpirebbe di più? Perché? Trentasei. Parla di un tuo problema personale e chiede al partner un consiglio su come lui o lei affronterebbe questo problema. Chiedili anche di descriverti come gli sembra che tu ti senta rispetto al problema di cui hai scelto di parlare. Bene, queste sono le sei domande. A questo punto dovreste mettere giù il test, guardarvi negli occhi per 4 minuti senza parlare e alla fine vi troveresti innamorati. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ti ricordi inoltre che a partire dai 20.000 iscritti ci sarà un nuovo servizio streaming live che ci sarà un'ora di formazione gratuita in diretta a cui potrai partecipare facendo domande su un tema da te scelto. Il servizio è gratuito ma a partire dai 20.000 iscritti. Per cui iscriviti al canale se ancora non lo sei e fai iscrivere i tuoi amici. Ciao!